Punto Pesca, qualità, cortesia e competenza al servizio del cliente. Punto Pesca, ormai da molti anni specializzato nelle migliori marche e attrezzature per la pesca sportiva, saprà accontentare ogni richiesta ed esigenza del pescatore. Inoltre, Punto Pesca è anche personalizzazione e riparazione canne da pesca e mulinelli, vendita e prenotazione esche, vendita online, servizio WhatsApp, ordini personalizzati e spedizioni in tutta Italia in 48 ore. Punto Pesca vi aspetta in Corso Francia 223 a Collegno, provincia di Torino e su www.dapuntopesca.com